Questa mattina è lunedì, inizia la settimana santa e noi vogliamo iniziarla con un nostro amico, viene a trovarci Don Mimmo Minafra! Don Mimmo! Buongiorno! Buongiorno! Ci hai importato un sacco di cose, allora io mi devo spostare! Ma che meraviglia! Don Mimmo benvenuto! Grazie, buongiorno a tutti! Don Mimmo! Allora, eccoci qua, oggi sono tutto vostro! Don Mimmo, oggi una lunga mattinata da vivere insieme, però noi vogliamo iniziare dalla giornata di ieri, la Domenica delle Palme, infatti ci hai portato anche dei Ramoscelli d'Ulivo. Sì, è la Domenica in cui facciamo memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e mi piace sempre immaginare che lì dove a Gerusalemme è avvenuto tutto, dove è arrivato anche un po', possiamo dire, l'apice di questo amore grande di Gesù per tutti noi. Quindi in quell'ingresso in Gerusalemme è come se Gesù volesse entrare nel cuore di tutti. E il cuore di ciascuno è quella Gerusalemme dove lui vuole sempre rinnovare il suo amore grande infinito per noi, tale da dare la sua vita per tutti noi. Già scorrono le immagini che riguardano la giornata della Domenica delle Palme, vogliamo riviverla insieme e poi ne parliamo. Grazie. Grazie. Grande la partecipazione di Folla a Piazza San Pietro, Don Mimmo, e grande anche protagonista il silenzio di Papa Francesco. Sì, è una scelta che davvero ho ammirato, condiviso, perché il silenzio è importante in certi momenti, perché ascoltando il racconto della passione di Gesù non servono le parole. Bisogna avere l'umiltà di porsi in silenzio e di far entrare quella parola nel cuore, proprio perché il cuore diventi quella Gerusalemme dove Gesù rinnova questo grande amore. Devo dire che a volte, come sappiamo, il silenzio parla più di tante parole. Papa Francesco da questo punto di vista è un grande educatore, un grande liturgista, perché davvero ci ha insegnato, anche a noi sacerdoti, che in certi momenti bisogna fare silenzio per dare spazio alla parola. E questa è una cosa, ritengo, molto molto importante. Oggi più che mai, in cui davvero si fa rumore, si fa chiasso, il silenzio deve diventare il filo conduttore che ci deve aiutare a contemplare la passione di Gesù. È una settimana fondamentale e la settimana, possiamo dire, che genera la nostra identità. Noi siamo cristiani perché crediamo che Gesù Cristo è morto ed è risorto. L'amore, i gesti veri, non hanno bisogno di tante parole, non hanno bisogno di tante didascalie. Il silenzio è fondamentale. Io dico sempre, quando si ama una persona, basta stare di fronte alla persona, guardarla negli occhi, non servono tante parole. Basta stare in silenzio e guardare. Una mamma, quando guarda il proprio bambino che dorme, resta in silenzio, ammirata, per vedere la tenerezza che infonde questo bambino. E noi cristiani siamo chiamati, di fronte a Gesù crocifisso, a fare silenzio. Perché solo nel silenzio il Signore può parlare al nostro cuore. Del resto è bella l'immagine del deserto che ha caratterizzato anche il percorso quaresimale. Proprio perché il deserto, non che sia il luogo dove non c'è comunicazione, ma il luogo che ci ispira a porci un attimo in silenzio, a dire un attimo, fermiamoci e cerchiamo di capire dove stiamo andando. Quindi Don Mimmo, quel silenzio del Papa di ieri ha tante motivazioni, ma anche può essere uno spunto di riflessione anche per vivere al meglio questa settimana santa, anche per tutti noi, anche per le persone che ci seguono in questo momento da casa. Secondo me Papa Francesco ha fatto un gesto meraviglioso, che ha parlato più delle stesse parole, questo gesto. È stato molto eloquente, cioè il silenzio. In un mondo che sta vivendo grandi sofferenze, in un mondo lacerato dalle guerre, in un mondo dove c'è tanta sofferenza, anche per ascoltare il grido dei poveri, bisogna fare silenzio. E questo è stato l'esempio che Papa Francesco ha dato a tutti noi. Le immagini di Piazza San Pietro ci fanno vedere i parmurelli, questa antica tradizione di palme intrecciate che vengono dalla Liguria e che vengono donate a Piazza San Pietro e a Papa Francesco. Le palme sono protagoniste, ma grande protagonista è l'ulivo. Messaggio e simbolo di pace di cui parliamo dopo la pubblicità. Siamo tornati, abbiamo aperto la Settimana Santa in compagnia di Don Mimmo Minafra. Don Mimmo, ci hai portato tantissime cose oggi, però vogliamo partire proprio, stiamo raccontando, rivivendo la giornata di ieri, i ramoscelli d'ulivo. L'ulivo, simbolo di pace. L'ulivo è praticamente un simbolo che parla da solo, perché ci parla della pace, ci parla anche di un momento molto importante della vita di Gesù, che è appunto la preghiera nel Gezzemani, quando Gesù sperimenta la solitudine, l'abbandono anche da parte degli amici, perché a un certo punto Gesù dice venite e pregate con me, vegliate con me e alla fine resta da solo. È nell'orto del Gezzemani che lui dice il suo sì alla volontà di Dio, ma anche perché l'ulivo ci ricorda che proprio da quest'albero ricaviamo l'olio, un elemento così prezioso, non solo per la nostra alimentazione, ma anche per la vita spirituale. E noi di solito nella messa crismale, che si terrà prima dell'inizio del triduo pasquale, vengono consacrati gli oli dai nostri arcivescovi. Ovviamente anche Papa Francesco farà questo gesto, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e l'olio del crisma, che tra l'altro è un olio che viene, diciamo, all'olio viene aggiunto del profumo, per farci capire che noi, che siamo unti come Cristo, profumiamo di Cristo. Infatti Cristo significa unto, Gesù è l'unto per eccellenza, ma noi nel giorno del battesimo e della cresima veniamo unti. Il giorno in cui ci viene amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi, veniamo unti quando c'è l'ordinazione sacerdotale, l'ordinazione episcopale, veniamo unti. Per cui il frutto dell'ulivo è importantissimo per il nostro percorso spirituale. Don Mimmo, torniamo allora alla giornata di ieri, torniamo a Piazza San Pietro con Papa Francesco e le sue parole. Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore le accolga nella sua pace e i conforti delle loro famiglie e li converta ai cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato non ucciderai. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra. In modo speciale penso alla martoriata ucraina, dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture che, oltre a causare morti e sofferenze, comportano il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampia dimensione. Per favore non dimentichiamo la martoriata ucraina. E pensiamo così a Cassa, che soffre tanto, e a tanti altri luoghi di guerra. E ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria. impariamo da lei a stare vicino a Gesù nei giorni della Settimana Santa per arrivare alla gioia della Resoluzione. Le parole di Papa Francesco, poche parole, ma sembrano continuare idealmente quello che è contenuto nel simbolo dell'uliva. Sì, assolutamente, anche perché si avverte appunto la pesantezza proprio di questo fardello che si porta il nostro Papa, perché effettivamente lo sente tutto, il peso di tanta sofferenza. Prima parlavo appunto il grido dei poveri, di coloro che stanno soffrendo. Sarà una Pasqua davvero segnata dal grido della sofferenza di tanti innocenti. La violenza, come diceva, è un'offesa a Dio. La violenza è sempre davvero esattamente l'opposto di quello che Gesù fa. Gesù, mentre viene messo sulla croce, chiede perdono per chi lo mette in croce. Gesù dice amatevi. Gesù, prima di morire, dice vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Qual è la novità di questo comandamento? Cioè la capacità davvero di saper dare la propria vita per l'altro. Questa è la grandezza di questo comandamento nuovo. E io spesso mi chiedo sarei capace io di fare come ha fatto Gesù? Cioè di dare la vita per l'altro. E quindi davvero siamo chiamati, ecco, torna il silenzio. Nel silenzio a renderci conto davvero dove vogliamo andare. Il Cardinal Zuppi ha detto una cosa bellissima qualche giorno fa. Se vuoi la pace inizi a costruirla nel tuo piccolo, nelle piccole cose. A partire dai rapporti familiari, dai rapporti interpersonali. E poi dico sempre, non possiamo parlare di pace se ogni giorno non ci sforziamo anche di entrare in pace con noi stessi. Perché solo se siamo in pace con noi stessi poi potremmo pian piano, pian piano. Perché la pace è come un cerchio che si allarga quando lanci un sassolino nell'acqua. Se non c'è un centro, non puoi parlare di pace come un concetto astratto. È molto bello, Don Mimmo, è importante quello che stai dicendo. Perché a volte uno si sente anche un po' impotente. Dice, cosa posso fare? Io nel mio piccolo si parla della pace nel mondo. Però in realtà è proprio così. Possiamo iniziare ognuno di noi nel nostro piccolo, in famiglia. Assolutamente. Questi giorni che sto confessando più dei giorni così feriali è uno degli elementi in cui davvero quando do la penitenza, quando dico sempre lo facciamo così, per penitenza, ecco, un gesto di vicinanza. Magari con una persona con cui non ti parli da tanto tempo. Oppure se ci sono delle ruggini familiari. Io credo che al Signore sia gradito anche lo stesso sacrificio di chi pur sapendo di stare nella ragione, diciamo così, però fai sempre quel primo gesto, quel primo passo. Io dico sempre ai miei parrocchiani quando capita qualche divisione dico sempre ricordatevi questo. Solo chi sa di stare nella ragione è capace di tendere la mano perché non ha nulla da perdere. Perché soprattutto è in pace con se stesso. Prendiamo spunto dalle parole di Papa Francesco. Lo faremo fra poco perché ritorneremo a quell'affidamento a Maria. a cui hai richiamato nella clip che abbiamo sentito poco fa in una giornata in cui parleremo anche della addolorata in cui andremo anche a Lourdes. Ma tutto questo fra poco Don Mimmo perché la giornata è lunga ancora. Sono tutto vostro. Noi ci spostiamo, grazie. Sì Giacomo, ci spostiamo. Quello che vedete alle nostre spalle è il segnale che ci arriva in diretta da Lourdes in questo momento. Don Mimmo, per quale motivo questo? Perché? Perché oggi è una giornata importante a Lourdes e ricordiamo che fra poco la messa che trasmetteremo sarà proprio una messa in diretta da Lourdes. Ma che giornata sarà questa oggi? Eh sì, perché era proprio il 25 marzo del 1858 che Bernadette sentì forte l'impulso di andare alla grotta e per tre volte chiese ad Acherò perché lei non sapeva come si chiamasse questa ragazza con cui parlava e Acherò nel dialetto dei Pirenei significa quella lì e a un certo punto per tre volte dice ma per favore mi volete dire come vi chiamate? La terza volta la Madonna sorride abbassa le braccia così in questa maniera poi le ricongiunge sul petto guarda in alto e dice chissoyera immaculada concepció che nel dialetto dei Pirenei quindi non l'ha detto in francese significa io sono l'immacolata concezione e possiamo dire che nel giorno dell'annunciazione l'immacolata concezione è questo contesto che precede alla Pasqua ha davvero un grande significato mariano perché sentivo dire una volta che Maria è vero che ha avuto la sua annunciazione diventando appunto la madre di Gesù Cristo ma ai piedi della croce lei ha avuto la sua seconda annunciazione quando Gesù dice donna ecco tuo figlio e in quel figlio Maria ha partorito e generato a nuova vita tutti i peccatori per cui possiamo dire che la Madonna se non ha sentito il dolore nel parto di Gesù ai piedi della croce ha sentito il dolore di questo parto dove lei è diventata la madre della Chiesa per cui questo significato meraviglioso legato all'urdo nel giorno dell'annunciazione dove lei dice io sono l'immacolata concezione ci fa comprendere il progetto di Dio su di lei di cui però lei aveva anche la libertà di dire no infatti ricordo sempre il Cardinal Comastri una volta commentando quel rivestimento meraviglioso del Sansovino che racchiude la Santa Casa di Loreto c'è appunto la scena dell'annunciazione e ricordo che diceva sempre Dio sta lì con trepidazione in quel momento aspettando il sì di Maria dove lei mettendo a rischio la propria vita ha dato la disponibilità al progetto di Dio Maria ha messo a rischio la sua vita perché poteva essere lapidata sappiamo le cose come sono andate ecco perché è importantissima questa risposta che Maria ha dato a Dio Don Mimmo ed è proprio all'Urd che vogliamo andare perché è un luogo che tu conosci benissimo dove vai spesso ci dicevi che tornerai proprio con l'Unitalsi a luglio e noi proprio una storia vogliamo raccontare la storia di un volontario un barelliere dell'Unitalsi che è andato all'Urd per la prima volta perché voleva accompagnare la nonna però poi da lì c'è una storia di conversione uno dei tanti miracoli soprattutto miracoli spirituali che avvengono all'Urd e allora ascoltiamo la storia di Alessandro Sinatra Io sono nipote di una nonna e una zia disabile che fanno parte dell'Unitalsi da più di 40 anni mia nonna mi ha sempre detto negli anni quando ero più giovane di accompagnarla a venire anch'io in pellegrinaggio con loro ma a 20 anni pensavo a tutt'altro pensavo a uscire con gli amici andare a divertirmi andare a ballare nel 2001 mia nonna mi ha detto che aveva fatto una promessa alla Madonna e prima di morire le aveva promesso di portarmi in pellegrinaggio con loro all'Urd io mi sono un po' arrabbiato perché le ho detto come fai queste promesse senza chiedermi nulla prima e comunque da buon fedele ho deciso di accontentarla il primo pellegrinaggio utile nel 2001 siamo partiti insieme io però sono partito come pellegrino perché appunto volevo mantenere le distanze dall'associazione da questo mondo e l'ho fatto solamente per fare contenta mia nonna e non farle venire meno la promessa che aveva fatto la Madonna alla fine del pellegrinaggio mi sentivo come mancante di qualcosa vedevo negli occhi degli altri barellieri delle altre sorelle una luce diversa una gioia diversa che io non avevo l'anno successivo sono partito come barelliere perché il presidente della mia sottosezione mi ha detto che se non fossi partito come barelliere mia zia non poteva partire come ammalata e da allora la mia vita è completamente cambiata da allora non ho mai smesso di andare in pellegrinaggio all'URD ho iniziato a far parte dell'Unitals in maniera attiva costantemente e oggi sono già più di 30 pellegrinaggi che ho fatto all'URD e io dico sempre che la Madonna mi ha rapito il cuore ogni persona che viene in pellegrinaggio all'URD viene per una ragione diversa ognuno ha un motivo o per venire a ringraziare la Madonna o per pregarla affinché riceva una grazia per noi Maria è la mamma ogni figlio quando ha bisogno va a chiedere aiuto alla mamma l'esperienza l'esperienza che il pellegrinaggio all'URD dà è sempre diversa però ogni nuova persona che incontri è una nuova esperienza è una nuova problematica è una nuova croce da portare che ogni persona porta la porta all'URD per offrirla alla Madonna per offrirla al Signore e allora lì è il congetto di Maria aiuto dei cristiani questa era la storia di Alessandro Siani noi tra un po' torneremo all'URD con la Santa Messa e ritorneremo anche con Don Mimmo Minafra che sarà con noi tutta la mattinata noi adesso però ci fermiamo qualche istante andiamo in pubblicità ma subito dopo parleremo di una giornata oggi è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri a tra poco abbiamo Don Mimmo vieni qua al centro eccolo qui che ci aspetta con il tarallo con il cosiddetto schlep che è un impasto di acqua zucchero a velo e succo di limone fa parte del corredo dei bambini che accompagnano la Madonna addolorata vestiti da centurioni e siccome questo tarallo era inserito nella spada e le nostre processioni durano un bel po' di tempo ogni tanto i bambini tiravano un morso Don Mimmo ma lo facevi anche tu ti vestivi anche tu da centurione? no da bambino mi vestivo da prete già da prete facciamo già le processioni rimanete con noi allora se volete scoprire i mille euro utilizzi del tarallo con lo schlep e naturalmente per vivere con noi questo lunedì santo dopo TG2000 Flash e la Santa Missa da Lourdes a dopo con questo canto e con l'augurio di Padre Nicola ventriglia riprendiamo la linea in questo lunedì della settimana santa ma lo facciamo sempre sotto lo sguardo di Maria grazie si e ci aspetta vogliamo ridare il buongiorno a Don Mimmo Minafra Don Mimmo che ci tiene compagnia per tutta la mattinata oggi Don Mimmo l'abbiamo detto oggi sono tutto vostro Don Mimmo abbiamo ripreso la linea proprio da Lourdes perché oggi ricordiamo giornata importante anche perché oggi si ricorda la sedicesima apparizione della Madonna a Bernadette le apparizioni sono 18 Don Mimmo si 18 apparizioni addirittura l'ultima Bernadette vedrà la Vergine Maria al di là del Gav perché la grotta era stata chiusa da uno steccato era stato vietato l'accesso alla grotta e Bernadette dirà non l'ho mai vista così bella era splendente di luce ma sapete c'è una caratteristica nella giornata di oggi perché fece scandalo quando Bernadette lo riportò perché la Madonna parlò in dialetto e diciamo all'epoca secondo anche la spiritualità del tempo faceva un po' scandalo che la Madonna potesse parlare in dialetto quindi con il linguaggio dei poveri del popolino e invece questo ha un grande insegnamento per noi perché Maria fa di tutto per entrare nel cuore ma anche nel vissuto dei suoi figli e la dice molto anche perché Lourdes anche dal punto di vista iconografico la Vergine Maria porta quelle due rose d'oro sui piedi non dimentichiamo che la grotta di Massabiel era un immondezzaio e Maria dove poggia i piedi fiorisce la grazia ecco perché quelle rose d'oro sulla nostra povertà sulla nostra immondizia diciamolo pure chi si è sintonizzato su TV2000 soltanto adesso vede che sul nostro tavolo ci sono diverse cose che ci ha portato Don Mimmo e nel corso della puntata vi sveleremo il significato sono tutte cose che riguardano naturalmente questo periodo così carico e l'ulivo naturalmente lo conoscete tutti quanti vale la pena però ricordare che oggi 25 di marzo è anche il giorno dell'annunciazione la festa liturgica quest'anno si festeggerà in maniera posticipata all'8 di aprile però ricordiamo il senso della festa dell'annunciazione l'annunciazione è appunto quel sì di Maria che dà la disponibilità a Dio al suo progetto di amore e quando anche in passato ho commentato anche l'immagine della Madonnina di Siracusa ricordate quando la Madonna parlava della Madonna con la mano sul cuore ebbene è il cuore di Maria il luogo all'interno del quale Dio ha potuto realizzare i suoi sogni perché è partito tutto da quel suo cuore e quindi quel sì è nato proprio da questo quel cuore che noi questi giorni contempleremo anche trafitto dalla spada del dolore anche perché Don Mimmo ricordiamo oggi lunedì santo e quindi vogliamo proprio spiegare come si apre la settimana santa qual è il significato di questa giornata questa giornata possiamo dire che è una giornata caratterizzata dalla parola del Vangelo che abbiamo ascoltato poc'anzi nella messa che è il Vangelo dell'unzione di Betania cioè è il giorno in cui noi attraverso questo gesto sentiamo il profumo che si espande per tutta la casa cioè un gesto fatto con amore con disinteresse perché valeva tanto questo profumo che Maria sparge sui piedi di Gesù ebbene i gesti di amore portano sempre il proprio profumo e questo profumo possiamo dire che è stato preceduto possiamo dire già lo scorso venerdì dalla presenza della Vergine Addolorata che in tante parti del nostro sud ha girato le strade dei nostri territori dei nostri paesi delle nostre città perché questo? Noi tradizionalmente a Bari quando c'è la processione della Madonna Addolorata diciamo la Madonna va in cerca del figlio e io dico sempre il figlio sta felice con lei semmai va in giro per cercare i figli ma Maria gira per le strade con una settimana di anticipo perché Maria è madre della Chiesa prima dicevamo che Maria ha ricevuto la sua annunciazione ai piedi della croce ebbene Maria ci ricorda ricorda i figli preparatevi perché stanno arrivando i giorni più importanti siate fedeli e soprattutto aprite il cuore ecco il silenzio anche di Papa Francesco aprite il cuore ad ascoltare quella parola che ci porta alla resurrezione che ci dona la vita nuova e Maria è un chiaro esempio di colei che mette a repentaglio la propria vita perché ha rischiato dicendo il suo sì e lei ancora oggi continua ad andare per le strade delle nostre città per asciugare le lacrime di tante mamme di tante famiglie di tante situazioni che vivono il disagio della sofferenza della fragilità ma soprattutto perché Maria è la madre della speranza i colori che la dolorata veste ci rimandano a quello il nero sicuramente è un colore che ci manda alla cupezza al dolore però vediamo anche dell'oro sugli abiti della Madonna sì perché nelle statue della Madonna dolorata che portano nella maggior parte dei casi vestiti abiti luttuosi c'è sempre una punta di oro o di argento quasi a dire che nella notte più oscura c'è sempre una stella luminosa che splende e Maria è la stella del mattino è lei che precede il popolo di Dio cammina verso il Cristo risorto che è la luce vera non dimentichiamo che in Spagna Siviglia ma in tutta la Spagna la Madonna dolorata viene chiamata anche della speranza che poi è la Macarena la Marinera di Triana eccetera cioè la Madonna dolorata non vive un dolore fine a se stesso ma è un dolore carico di speranza è come il dolore del parto che in quel momento fa male però porta una vita nuova Domimmo allora adesso vogliamo andare proprio nella tua Puglia in questo viaggio ci accompagnerà Simone Nestori assicuriamo proprio il momento della vestizione della Madonna addolorata a Gallipoli guardiamo insieme siamo a Gallipoli nella chiesa del Monte del Carmelo dove viene custodita la statua della Madonna addolorata questa Madonna viene vestita per la festa da un abito i cui ricami risalgono la prima metà dell'Ottocento tutto ricamato in oro che noi mettiamo alla Madonna per la festa quando la festa finisce la Madonna viene rivestita con l'abito io dico di tutti i giorni questa tradizione della vestizione da parte della mia famiglia risale ai primi dell'Ottocento nell'Ottocento e 5 uno dei primi priori è stato Bartolomeo Ravenna un mio antenato per me era normale che la Madonna venisse in casa era normale che io assistessi proprio in religioso silenzio a questo rito della vestizione la Madonna per me era una di famiglia io ogni sera prima di andare a letto mi dovevo inginocchiare davanti alla Madonna e dire le mie preghiere della sera sono ricordi bellissimi che rivivo come se fossero accaduti ieri il culto per la Madonna dolorata qui in Gallipoli lo si deve alla confraternita di Santa Maria della Misericordia la cui presenza è attestata già dalla visita pastorale del Vescovo di Gallipoli tra il 1563 e il 1567 questa confraternita aveva come fini istituzionali quello di promuovere le opere di misericordia inoltre solennizzava la memoria dei dolori di Maria il venerdì precedente la Domenica delle Palme a metà del 600 sulle volte dell'oratorio della misericordia fu edificato un altro edificio sacro con la istituzione di una congregazione dedicata alla Madonna del Carmine a metà del 700 le due confraternite furono fusse sotto un'unica regola sulla mozzetta ci sono due ovali due macchiette la macchietta sinistra raffigura la Madonna addolorata trafitta dalla spada sulla parte destra c'è la macchietta con lo stemma della misericordia costituito da una raffigurazione il teschio simbolo della caducità della vita la candela e il Vangelo e la clessidra alata il tempo che passa tra un po' ritorneremo a Gallipoli proprio per vedere seguire la processione Don Mimmo il momento della vestizione è un momento molto importante e lo chiedo a te che tu vesti da sempre possiamo dire proprio la statua di San Nicola sì vestire un'immagine sacra significa consegnare al popolo un tesoro importante che diventa un punto di riferimento per la preghiera per cui possiamo dire che è grande anche la responsabilità perché non è semplicemente vestire un manichino che pur sempre ma in quella situazione particolare quell'immagine diventa davvero una spugna che assorbe le preghiere le lacrime le tensioni ho sempre molto forti questi ricordi di quando sia per chi veste la dolorata a Bari ma anche tutte le volte che vesto la statua di San Nicola alla fine dell'opera dico sempre bene adesso sei dei tuoi devoti dei pellegrini anche di coloro che non hanno speranza questo è il significato non è semplicemente l'esposizione pubblica di un manufatto bello anche artisticamente perfetto ma è soprattutto una consegna carica di speranza nella vita mia di grazia da inviati ci è capitato non solo di assistere ma anche di toccare con mano la devozione ma proprio il legame viscerale dei posti insomma dove siamo andati al punto tale da considerare una persona di famiglia questa addolorata i tuoi ricordi di quando eri piccolo che cosa cosa ti riaffiora beh quando devo parlare dell'addolorato dei ricordi precisi di sindaco quando ero bambino innanzitutto questo forte legame della città di Bari con la Madonna tanto è vero che per i baresi quando si dice la Madonna quella è cioè la Madonna con l'abito nero che soprattutto nella chiesa di Sant'Antonio a Bari diciamo riceve grande affetto grande devozione e ogni volta quando il venerdì delle palme c'è l'uscita di questa processione è un momento molto forte emotivamente parlando queste foto che ci hai portato Donimmo? queste sono foto d'epoca dove si vede tra l'altro appunto un bambino vestito da guerriero con la spada e nella spada vediamo infilati ecco i famosi taralli con lo schlepp ma i taralli che ci hai portato oggi Donimmo esatto sono proprio questi questi taralli che tra l'altro vogliamo dire anche una cosa se ti interrompo ma mi sembra giusto dobbiamo salutare anche la signora che ci ha preparati Donimmo allora dobbiamo salutare la signora Maria di Bitrito che ha realizzato le scarcelle Dario Morisco ha realizzato i taralli con lo schlepp e se posso permettermi vorrei anche salutare la mamma di padre Francesco D'Agostino che sta alla Basilica di San Nicola visto che abbiamo parlato di San Nicola che è in casa da Castellace provincia di Reggio Calabria quindi un grande saluto e quindi Donimmo i taralli venivano portati in processione dai bambini sì perché le nostre processioni non è che durano un paio d'ore per cui si esce la mattina e ci si ritira la sera e poveri figli i bambini ogni tanto quando erano presi un po' dalla fame tiravano lo fanno tutt'oro un morso a questi taralli e quindi arrivano alla fine con le spade piene di cioè iniziano con le spade piene di taralli e poi alla fine si consumano come è giusto che sia il nostro pubblico che è qua da stamattina le reclama dice anche noi vogliamo i taralli siamo sempre qua perché tra l'altro questi questi taralli stanno visto che oggi è la giornata anche del profumo stanno espandendo un profumo dolcissimo perché questo impasto di acqua zucchero a velo e limone solidificandosi è capace anche di donare un profumo dolcissimo e particolare quindi immaginate voi lo state sentendo si vi arriva vedremo di fare la moltiplicazione del tarallo però ecco questo ci rimanda anche don Mimo a un aspetto che riguarda molte processioni che avverranno durante la settimana santa cioè un aspetto penitenziale alcune processioni durano tantissimo anche per l'andatura che viene fatta in maniera molto molto lenta un incedere molto molto lento per cui c'è un aspetto che diciamo addolcito poi dalla presenza del tarallo ma c'è un aspetto anche penitenziale riflessivo da parte di chi le conduce assolutamente sì e poi c'è da dire che c'è una tradizione che si tramanda veramente da padre in figlio e poi c'è anche una preparazione dal punto di vista spirituale le confraternite vivono già da dopo Natale subito questa preparazione che è fatta di momenti di catechesi di via crucis di celebrazioni proprio perché non si deve arrivare non solo impreparati ma quel momento non deve cadere così come un fulmine a ciel sereno nel mezzo della nostra ferialità ma la preparazione ci aiuta ancora di più a compenetrarci in quello che noi vogliamo vivere perché la processione essendo un gesto pubblico è anche una testimonianza di fede quindi non si può andare in processione così c'è una preparazione prima abbiamo visto anche vedevo una foto della dolorata di Taranto della chiesa di San Domenico di Taranto ebbene a Taranto quella processione esce a mezzanotte del giovedì santo e si ritira alle 13 anche 14 del venerdì santo per cui c'è tutta una teoria anche di gente di persone che portano candele portano ceri vivono dal punto di vista non solo devozionale ma veramente penitenziale con il cuore perché quel momento è un momento di riflessione di presa di coscienza talvolta anche del proprio limite certe esperienze sono davvero anche motivo di conversione e di riflessione seria Don Mimmo allora ritorniamo proprio a Gallipoli dove Simone Nestori ci fa rivivere la processione del venerdì della dolorata guardiamo insieme la giornata di oggi è particolarmente attesa dalla gente di Gallipoli per tributare alla Vergine Maria il proprio affetto la propria devozione la propria riconoscenza per tutto quello che lei è stato e continua ad essere a mezzogiorno il vescovo insieme ai ministri si ritroverà presso la chiesa del Carmine da lì partirà la processione che farà sosta qui in cattedrale dove lo stesso vescovo presiderà l'Eucaristia poi dopo la celebrazione la processione si prolungherà fino ai confini della città la sera a rientro c'è un momento particolarmente atteso quando la statue della Madonna si porrà vicino al bastione della città vecchia guardando il porto e da lì sarà dato un messaggio di incoraggiamento di speranza a tutti coloro che leveranno lo sguardo per ritrovarsi in quel volto che dice attenzione amore premura sollecitudine il rapporto di Galdipoli con la Vergine adorata è un rapporto particolarmente sentito mi piace dire che è un rapporto un'attenzione che si tramanda di generazione in generazione è veramente commovente vedere questo bisogno di ritrovarsi in uno sguardo in cui riflettersi uno sguardo che non ti fa sentire a disagio ma uno sguardo che ti incoraggia alla confidenza non è difficile vedere in questa giornata come anche tanti volti si rigano di lacrime sono i volti di chi vive particolari momenti di sofferenza di prova e io credo che i motivi per cui Galdipoli è legato alla Vergine Maria sono veramente tanti ma tutti si radicano in quelle parole bellissime che lasciano e segnano il cuore di ciascuno donna ecco tuo figlio figlio ecco tua madre questa era la processione a Gallipoli e come diceva anche Giacomo prima ne abbiamo vissute facendo una vita da inviati e l'anno scorso io ero proprio con te a Bari e mi ha colpito profondamente vedere proprio lo sguardo commosso delle persone che aspettavano l'uscita della Madonna addolorata e un'altra cosa che mi ha colpito Don Mim era proprio l'andamento della statua della Madonna sì innanzitutto ti ringrazio perché mi offri lo spunto di dare un'ulteriore riflessione sullo sguardo sì perché in quel momento da noi si dice andiamo a vedere uscire la Madonna perché quando c'è l'uscita è come se fosse il momento in cui la mamma dice adesso sono tutta per voi e quindi c'è l'accoglienza di questa uscita con un grande applauso che spesso copre dei pianti anche carichi di grande sofferenza questo sicuramente e poi questo andamento che da noi si chiama la nazicata cioè questo procedere lento e cadenzato che soprattutto con il trasporto della statua del Cristo morto pensiamo per esempio alla Naca di Noicattaro che si chiama così Naca che non è una bara mortuaria non è una struttura funebre ma è una vera e propria culla le bande non fanno altro che quasi quasi cantare la ninna nanna al re che dorme così come dice l'ufficio delle letture del sabato santo si fa silenzio sulla terra perché il re dorme e in questo dormire le bande suonano per accompagnare la nazicata della Naca della culla del Cristo morto e quindi Cristo la Vergine Maria che ovviamente partecipa col suo dolore andiamo in pubblicità noi ci ritroviamo dopo abbiamo parlato dei sette dolori di Maria chiariremo anche di che cosa si tratta e vi porteremo anche laddove in questo momento non solo il dolore di Maria ma anche dei suoi figli vi porteremo in terra santa dove è proprio presente la cappella della dolorata a fra poco con Don Mimbo Minafra parroco della trasfigurazione a Bitritto stiamo vivendo un po' tutto quello che riguarda non solo l'inizio della settimana santa ma anche la fine della settimana scorsa e i venerdì della dolorata abbiamo visto un po' questo grandissimo legame che c'è in molte zone d'Italia particolarmente nel sud Italia con la Madonna addolorata e noi spesso abbiamo visto anche questa mattina l'immagine della Madonna addolorata trafitta da queste spade che indicano proprio i dolori di Maria che cosa sono questi dolori che cosa ci indicano i dolori di Maria ci fanno comprendere una grande realtà perché iniziano dalla profezia di Simeone che fornisce possiamo dire iconograficamente lo spunto che ha ispirato poi l'arte perché Simeone dirà a Maria anche a te una spada trafiggerà l'anima sappiamo bene che la spada è la parola di Dio che crea comunque una spaccatura nel cuore di tutti e quindi anche Maria si è lasciata però penetrare trafiggere da questa spada ed è diventata con lei che ha fatto sì che la parola potesse diventare carne e il percorso dei sette dolori di Maria nasce appunto dalla profezia di Simeone fino a quando la Madonna non accompagna Gesù morto nel sepolcro per cui questi dolori ci ricordano che la Madonna è stata sempre accanto a Gesù ed è sempre accanto al figlio ecco perché la Chiesa poi contempla sette tappe con i cosiddetti dolori di Maria che vengono talvolta raffigurati anche con queste sette spade talvolta è una e talvolta sono sette Dommimo mentre tu parli noi stiamo vedendo delle immagini questa è un'altra processione noi cattaro questa è appunto una delle possiamo dire una delle più suggestive perché questa è proprio di notte quando avviene anche l'incontro tra la Madonna addolorata e la Naca quindi la culla dove è custodita l'immagine di Gesù morto e questa processione è caratterizzata anche dalla presenza di questi crociferi che vivono veramente è un atto penitenziale e sottolineo penitenziale perché loro mettono tutti il cappuccio perché non si sa l'identità di queste persone e mi ricordo perché anche qui mi è capitato di viverla proprio per di buon mattino e infatti è vero non si poteva sapere che ci fosse sotto quell'abito e anche qui ricordo questo andamento molto molto lento certo e tra l'altro le croci sono realmente molto pesanti cioè non sono croci di compensato giusto per dare l'idea anche perché c'era un significato in base al peso della croce anche diciamo l'intensità della richiesta o del ringraziamento esatto perché qui c'è tutto un percorso che hanno fatto i devoti e quindi talvolta è per sciogliere un voto oppure per la richiesta di una grazia e tutto questo avviene con lo sguardo di Maria visto che si è parlato di sguardi quello sguardo della madre c'è poco da fare Maria è la madre che accompagna i figli in questa presa di coscienza che Gesù veramente ha dato la vita per noi e quindi davvero è un momento molto forte e molto importante se quell'ulivo che abbiamo ancora sul tavolo testimonianza della giornata di ieri ci riporta alla pace vogliamo portarvi quest'oggi in un luogo che pace non ne sta conoscendo vogliamo portarvi con Alessandra Buzzetti in Terra Santa proprio nella cappella della Dolorata ci troviamo proprio dove la roccia del Calvario ricorda il luogo in cui è stata posta innalzata la croce di Gesù e immediatamente accanto troviamo questa edicola della Dolorata che ricorda che ai piedi della croce c'era la Beata Vergine Maria i misteri sono un mistero unico che la processione ricorda quotidianamente venerando prima il momento della morte in croce di Gesù qui sulla roccia del Calvario e immediatamente dopo ricordando il grande amore che ha accomunato Maria al mistero della nostra redenzione tutto qui è stato costruito con una grande simbologia proprio il momento della redenzione che qui viene ricordato si sviluppa sopra la cappella di Adamo sotto il Calvario viene custodita la memoria simbolica nella cappella di Adamo proprio perché il nuovo Adamo con la sua redenzione ha salvato tutto l'uomo il sangue del nuovo Adamo scende fino al primo Adamo per dire che è stata redenta tutta l'umanità questo luogo così vicino aderente alla roccia del Calvario è stato voluto dalla regina del Portogallo nel 1778 prima la processione si portava dove ora c'è la cappella chiamata Cappella dei Franchi e dove la tradizione ricordava il punto esatto in cui Maria e Giovanni stavano ancora oggi una tela ricorda proprio il luogo in cui Maria e Giovanni partecipavano al mistero della nostra redenzione un luogo simbolico ma molto densamente carico di significati Don Mimma un luogo molto suggestivo carico di tutto il suo significato e credo che non abbia bisogno di sottotitoli quello che abbiamo visto perché ci basta pensare che accanto appunto al luogo dove Gesù ha donato tutto se stesso per amore lì dove ha detto al padre tutto è compiuto e quando penso a questa frase penso a Gesù che lo abbia detto con una grande serenità non con sofferenza perché sapeva che in quel momento aveva detto sì definitivamente alla volontà del padre e in quel tutto è compiuto Maria ha raccolto l'ultimo respiro del figlio ecco perché è bello immaginare il luogo del Golgotha e accanto la cappellina della dolorata proprio perché come dicevamo prima Maria è sempre associata al figlio lei è stata la prima redente ecco perché lei ci precede in questo percorso Don Mimmo io vorrei proprio che tu ti rivolgesti alle persone che ci stanno seguendo da casa in questo momento abbiamo aperto con te la settimana santa in che modo viverla al meglio anche sotto lo sguardo di quella madonna addolorata beh saremmo chiamati questi giorni anche a vivere il digiuno il digiuno che sicuramente è fatto di assenza di determinati cibi ma spero che il digiuno sia anche un mortificare il nostro orgoglio il nostro amor proprio il nostro desiderio di voler avere sempre l'ultima parola su tutto e su tutti il digiuno sia davvero un entrare in sintonia attraverso il silenzio perché anche quella può essere una buona forma di digiuno in quel mistero che ci abbraccia e di cui tutti noi possiamo essere destinatari perché Gesù è morto ed è risorto per noi non lo ha fatto per se stesso ma lo ha fatto per amore mi piace sempre pensare che il cammino della Bibbia dall'Antico Testamento fino all'ultima pagina è un desiderio di Dio di farci capire quanto ci ama quanto ci è vicino e nella morte e nella risurrezione di Gesù c'è l'apice di questo grande dono che abbiamo ricevuto e a questo proposito la scarcella ci viene in aiuto in che modo di che si tratta? Allora la scarcella è un dolce tipico delle nostre zone e si chiama così perché scarcella viene dal verbo scarcerare quell'uovo come vedete è possiamo dire imprigionato come se fosse in una gabbia e quell'uovo è il segno della risurrezione per cui da noi non si dice mangiare la scarcella ma si dice rompere la scarcella perché nel momento in cui si infrange la scarcella avviene la liberazione e perché non pensare alla liberazione che Gesù ci ha dato con la sua morte e la sua risurrezione ci ha fatto passare dalla prigionia del peccato alla libertà dei figli di Dio ci ha fatto risorgere con la sua risurrezione quindi credo sia un dolce pasquale davvero che ha un forte significato e ringrazio davvero chi le ha realizzate e chi mi ha dato la possibilità di poterle condividere con voi e grazie a te Don Mimmo che ce li hai portati grazie a voi ma non mi dite che è già passato il tempo abbiamo già finito abbiamo già finito per quest'oggi però ecco saluti con noi nel salutarti ti restituiamo giustamente anche ai tuoi parrocchiani e alle parrocchiane perché saranno una settimana intensa anche per voi sicuramente e saranno lieti di riabbracciarti allora e beh sì sì perché staranno a dire insomma ma dove è andato sta qua momentaneamente ma mi stanno guardando li saluto me lo rendiamo l'abbiamo rapito per tutta la mattinata però adesso è arrivato il tempo dei saluti Giacomo noi per oggi abbiamo terminato ma domani ritorneremo domani il martedì con una storia una storia di fede una storia di una famiglia che affronta il dolore più brutto che possa capitare a dei genitori è quello della perdita di un figlio e se vogliamo il solco della addolorata della madonna addolorata proseguirà anche domani tempo di saluto per noi di buon mattino tempo di apertura dell'ambulatorio medico di tv 2000 con il mio medico grazie